il cadavere di una giovane è stato ritrovato secondo le prime informazioni raccolte all'interno di un sacco nero in un carrello della spesa in via stefano borgia a prima valle roma alcune persone che hanno assistito all'operato delle forze dell'ordine hanno segnalato di aver notato il carrello da diverse ore la polizia scientifica è intervenuta sul luogo per effettuare gli accertamenti secondo le informazioni disponibili è stato fermato un minorenne di origine straniera la cui posizione è attualmente oggetto di indagine la vittima risponde al nome di michelle maria causo